La festa delle oasi in collaborazione con la Lipu è un'occasione per poter promuovere questo paesaggio, per poter farlo conoscere, perché è uno dei più importanti canyon d'Europa, la superficie di questa gravina si estende per 12 chilometri, arriva fino al mare con profondità di 200 metri e con un'ampiezza di più di 300 metri e qui è possibile, come dicevo, ammirare non soltanto la natura ma anche praticare delle attività. Proprio oggi con la festa dell'oasi è possibile percorrere i sentieri che sono stati da tempo tracciati e che ospitano da sempre un numero inconsistente di turisti. È anche l'occasione per poter riflettere su un progetto, quello del Parco delle Gravine, per troppo tempo fermo e che sicuramente deve meritare più attenzione da parte sia della provincia, ma che è l'ente di gestione temporanea, ma anche della regione, perché questo può essere davvero un motore importante dello sviluppo del nostro territorio.